La villa Serra è una realtà veramente bella qui al confine del comune di Genova, al comune di Sant'Ulcese, la conobbe una ventina di anni fa quando era in Vasa dei Rovi, adesso dopo tanti anni si è recuperato il parco, la villa, stiamo finanziando alcuni lavori di completamento ed è veramente un punto di attrazione straordinario per questa parte del territorio della nostra regione, oltre 100.000 presenze all'anno, tanti bimbi, tante famiglie, tante persone anziane, una cura incredibile di una zona recuperata con un parco veramente straordinario. Come potete vedere il parco era un parco meraviglioso che in questi anni è stato recuperato molto bene, oggi è utilizzato, è un polmone eccezionale in una zona importante, grande della città. Ci è stata presentata una richiesta sull'asse 4 dei fondi europei, quella di valorizzazione del patrimonio storico e culturale, per una serie di interventi che potrete vedere questa mattina nel giro che si fa, che hanno comportato un investimento di circa oltre 450.000 euro, di questi 354, se non ricordo male la cifra, è il finanziamento che è stato concesso dalla regione attraverso l'utilizzo dei fondi europei. Io vi devo complimentare non soltanto per la qualità degli interventi, ma per il fatto anche della tempistica della spesa. Sui fondi europei spesso l'Italia è deficitaria perché arriva a spendere tardi, male. A volte ci sono certe regioni che non riescono neppure a spendere i fondi europei, questo è uno di quegli esempi di buone pratiche e di buona amministrazione, fondi già terminati, utilizzati e questo ci ha aiutato in un risultato positivo che abbiamo raggiunto. Noi al 31 dicembre avevamo uno step di spesa che dovevamo raggiungere, erano 218 milioni che avremmo dovuto aver certificato come spesa effettuata, siamo arrivati a 225 milioni. La Liguria ha già speso e certificato il 42% dei fondi che ci sono stati concessi, una media ben superiore al quadro nazionale che si attesta attorno al 30%, quindi siamo soddisfatti, lo dobbiamo a interventi come questi.